Dialetto Basso Garfagnino di Eglio di Molazzana, provincia di Lucca. Allora c'era la toppa, mette una toppa sotto l'altra, lavalli la sera per mettersi la mattina. E ora è cambiata la vita, ora è differente, non è più così. Io andavo a letto, lavavo i pantaloni a metili oli, le camicie per rimettigli, facevo asciugare il fuoco. Mettevo le legne, facevo un bel fuoco, le facevo asciugare al cammino. E la mattina le facevo rimette. E poi c'era la stana giornata sempre a rattoppare, mette una toppa sopra l'altra, perché un'era come oggi. Oggi si vive diversa, si vive meglio. C'è meno povertà, c'è meno... Eh, non si poteva, perché allora mancava il soldo. Mi marito lui lavorava nelle gallerie, sicché ecco ci si viveva tutti con quello che guadagnava lui. E allora era misera la cosa, non era come ora, che ora guadagnino, lavorino. E invece allora si lavorava, ma si guadagnava poco, mangiarci n'era poco. E la famiglia era grossa. E intanto si rimaneva addietro con tante cose. E si tirava là là, con questa polenta, con questi necci, con queste frittelle, un po' di castagnaccio, questo gaso, un pezzetto di maiale... Grazie a tutti.